Per quale motivo scegliere Genova per ospitare questa mostra? Per due motivi, uno banale, cioè che avendo firmato intanto un primo contratto biennale con Palazzo Ducare, la città di Genova, bisognava comunque fare delle mostre. Questo è un concetto molto banale, poi invece no, il concetto più serio è che il primo programma biennale è stato dedicato a due temi e due aspetti che ovviamente per Genova sono centrali, l'uno, il primo, il Mediterraneo, mostra fatta tra 2010 e 2011 e questo è il tema del viaggio, ovviamente anche molto viaggio per mare, e sicuramente Genova in Italia è la città che meglio di ogni altra avrebbe potuto ospitare, una rassegna dedicata all'idea, al concetto del movimento, del viaggiare nello spazio. Siete riusciti a portare da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo di Gauguin, che non era quasi mai stato spostato dalla seda Boston, oltreoceano fino a Genova. Come avete fatto, come si dispiegano le forze per ottenere un pezzo così straordinario? Intanto non viaggerà per mare, perché adesso i quadri non viaggiano per mare, dunque, come abbiamo fatto? Un lavoro di rapporti, di confidenze, di fiducia nei miei confronti da parte del Museo di Boston, è un museo con il quale personalmente collaboro in modo anche molto forte, molto proficuo da diversi anni, loro hanno prestato e stanno continuando a prestare alle mostre che faccio, non soltanto a Genova, anche in altre città italiane, molti quadri importanti. Abbiamo fatto anche due anni fa una mostra con i loro capolavori della pittura europea a Rimini. Beh, è stato un lavoro diplomatico ai fianchi, perché pensare e immaginare che questo prestito sarebbe andato poi a buon fine era già un azzardo solo pensarlo, appunto. In verità, quando ho messo in piedi questo progetto sul viaggio, ho pensato subito, immediatamente, a questo quadro. Ho coltivato per qualche mese, parliamo di oltre due anni fa, ho coltivato per qualche mese l'ambizione dentro di me di chiedere questo dipinto. Ho pensato di non farlo, perché mi sembrava una cosa troppo complicata. Avevano concesso il quadro in Europa una sola volta in un secolo, quindi questo dà già il senso della eccezionalità del prestito. E l'avevano concesso, peraltro, quasi dieci anni fa in una mostra dedicata a Gauguin nella Polinesia, quindi i suoi due soggiorni taitiani e le isole marchesi, una mostra che poi era coprodotta dal Museo di Boston, assieme al Gran Palais di Parigi, e che poi è andata anche a Boston. Quindi era un'occasione anche molto speciale, sensata per concederlo, ma non è mai stato più concesso in Europa e anche un paio di volte soltanto negli Stati Uniti. Poi per molti mesi ho lasciato stare. L'idea dentro di me è stata accantonata, fino a che, direi un po' più di un anno fa, ho cominciato a dire, no, perché? Ci provo, ci provo. E sono cominciati alcuni viaggi a Boston, anche per altri motivi, anche altri quadri che mi servivano. Ricordiamo che qui, nella mostra di Palazzo Ducale, ci saranno, del Musa di Boston, anche due quadri di Monet, un ponte giapponese e una versione delle Linfee, e un meraviglioso quadro di Van Gogh a Auvers, quindi uno degli ultimissimi quadri dipinti da Van Gogh. Ho cominciato, sono andato, ho parlato le prime volte, poi loro sono venuti in Italia, perché anche nell'inaugurazione della mostra Mediterraneo ci siamo visti qui. E insomma, è un gran lavoro ai fianchi, che poi nella primavera scorsa è diventato realtà, e quindi questa cosa è successa. Devo dire sì, quello che conta è certamente la fiducia. Poi naturalmente anche pensare di poter rischiare tutto quello che conta dal punto di vista economico per questo prestito. Perché è un prestito assolutamente molto oneroso, in quanto la sola assicurazione ci costa 300 mila euro, il quadro ha un valore pazzesco di 300 milioni di euro. Non ho mai avuto un quadro così, ovviamente, così costoso in tutta la mia attività, che pure sono stata fatta di prestiti molto, molto importanti, e ci costa circa 200 mila euro farlo venire qui, per il trasporto, il cargo speciale, la scorta armata che lo seguirà da Boston all'aeroporto di New York, insomma, veramente una cassa speciale, una cassa di 6 metri che conterrà questo quadro, insomma, tante cose connesse a questo prestito, e quindi anche questo era un argomento molto importante. e qui ci ha aiutato anche uno dei due sponsor principali della mostra, Unicredit, che ha aderito alla mia richiesta di aiutarci nel pagare le spese per trasporto e assicurazione. Come prendono forma le vostre mostre? Viene prima l'idea, il tema, o a volte può essere un'opera che suggerisce dipanarsi del filo rosso su cui poi si imposta la mostra stessa? No, le mostre che cura e che quindi hanno una idea alle spalle nascono sempre da un pensiero, molte volte da un'emozione. Ci sono mostre che sono nate dentro di me viaggiando, appunto. Molto spesso quando mi trovo a viaggiare nel mondo e vado a visitare dei musei, e vado a visitarli per chiedere dei prestiti specifici per magari una mostra che sto preparando in quel momento, guardando delle opere di altra natura che magari in quel momento non c'entrano niente con la mostra, e lì nascono appunto emozioni diverse, nascono magari prime pagine di appunti, questi quaderni così che riempio e quando giro per il mondo con piccoli pezzi di poesia che posso scrivere, sensazioni davanti a un quadro, anche davanti a paesaggi che sono lontani da quelli della mia terra, della mia emozione e quindi insomma ci sono tante cose che crescono anche se vogliamo così improvvisamente, inattese e inaspettate e un po' da queste cose poi negli anni successivi nascono mostre, si concretizzano questi progetti e quindi così progetti, se vogliamo chiamarli così, allo stato embrionale ne ho tanti, sono in questi fogli sparsi, poi bisogna però rendere concreti questi progetti, questa è la cosa veramente difficile, certo l'idea è fondamentale, anzi determinante, ma poi la concretizzazione avviene attraverso i prestiti delle opere e questo è un aspetto veramente complicato. Il motivo conduttore dell'esposizione è il viaggio, naturalmente non solo materiale, spaziale, ma anche e soprattutto interiore, il viaggio interiore è qualcosa che richiede coraggio e grande onestà con se stessi, qualcosa che oggi spesso si fugge perché si preferisce guardare fuori, la mostra culmina nel climax della stanza buia in cui in campeggia da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, sono i quesiti assoluti, quelli che hanno accompagnato tutta la storia dell'uomo con la loro forza dirompente, pensa che il tema della mostra riuscirà a portare lo spettatore, oltre la mera fruizione estetica, a guardarsi dentro. Ma questo è sempre stata la mia ambizione come curatore, c'è chi anzi mi accusa di portare il visitatore troppo verso questo aspetto, anche con gli spettacoli che scrivo e che da tanti anni ormai portiamo in giro nei teatri italiani, per me è importante proprio, ma vedo che la gente reagisce benissimo a questo tipo di approccio rispetto all'arte, e di portare appunto il visitatore ad entrare in contatto con la propria anima più profonda. Direi che questa mostra dedicata al tema del viaggio lo fa in misura straordinaria, forse tra tutte le mostre che ho fatto non ce n'è un'altra, che più di questa possa arrivare a toccare quel punto segreto, profondo, lontano, che mette in contatto la nostra propria quotidianità con il tempo primo del mondo. Per me questa è veramente l'ambizione massima, anche perché mi piace molto lavorare su una sorta di grande intreccio, di grande armonizzazione tra la parola, l'immagine, la musica, anche il pensiero filosofico sicuramente. Io credo che la gente abbia molta voglia di questo, e che la semplice nozione di carattere cattedratico, accademico non sia sufficiente. Gli storici dell'arte si possono forse accapigliare su un'unghia marrone gialla di Veronese, o di Tintoretto, o di Rembrandt, così. Sì, sono però temi e argomenti che possono forse interessare, non dico nemmeno a tutti gli storici dell'arte, forse a una parte. Io credo che invece la pittura debba essere detta e raccontata in un modo che deve assolutamente essere comprensibile per le persone. Chi fa il mio mestiere ha un compito per me straordinario, che è quello di porgere, proprio come si porge sul palmo di una mano un qualcosa, di porgere la bellezza alle persone che vengono a vedere le mostre. E questo deve essere un aspetto che si sviluppa con un linguaggio piano, chiaro, semplice, fluente. E questo si fa non soltanto parlando della tecnica dei pittori, non soltanto parlando dal punto di vista della storia dell'arte, delle successioni, dei movimenti, così. Tutto è importantissimo, ovviamente, ma tutto ciò deve essere mescolato per far sì che le persone vadano ad incontrare le cose e non se ne sentano respinte.